Grazie, Presidente. A un mese dal trentesimo anniversario della sua indipendenza, la Bosnia-Herzegovina sta attraversando la sua peggior crisi politica dalla fine delle guerre dei Balcani. Vecchie dolorose ferite tornano a sanguinare. Addirittura viene affissa una placca celebrativa a Vraca di Ratko Mladic, criminale di guerra e genocida. L'Unione Europea ha espresso tutto il suo oltraggio per la situazione, ma non basta minacciare dure sanzioni e inviare 500 soldati per scongiurare la spirale di tensione interetnica, per scongiurare ancora il rischio che Dodic cavalchi il malcontento economico e sociale trasformandolo in sentimenti nazionalisti, mentre già partono tanti volontari filorussi dalla regione verso l'Ucraina. Serve un nostro coinvolgimento diretto sempre più forte, con maggiori investimenti per contrastare una crisi che, oltre ad aspetti etnici, ha anche connotazioni economiche molto chiare. Per proteggere l'importantissima prospettiva di integrazione europea, va rivalutata profondamente, insieme ai diretti interessati, l'architettura stessa dello Stato bosniaco, superando i limiti emersi da trent'anni di crisi perenne e instabilità. Altrimenti sarà sin troppo facile per Mosca continuare con la sua opera di destabilizzazione del Paese, alimentando l'ennesimo sconto per procura e aprendo un secondo fronte nel cuore dell'Europa. Grazie.